Buongiorno, io innanzitutto ringrazio Nicoletta Ceran, acto che ritengo una splendida realtà per chi come me dedica tutta la propria attività alla ricerca sui tumori ovarici e gli altri tumori ginecologici. Ringrazio il Mario Negri e l'aumico Maurizio Dincalci per l'ospitalità, ringrazio il ringrazio Fedro e dopo i ringraziamenti veniamo a un tema che è un tema, come dire, hot e considerando proprio che è un tema in qualche modo difficile da comprendere, da attuare, da integrare fra quelle che sono le esigenze delle pazienti e quelle che sono le posizioni dei medici, ho pensato che fosse interessante per voi fare una sorta di riassunto, almeno per la parte dei messaggi che sono stati dati e che sono funzionali alla mia presentazione. Riferimento storico, Marchini ci ha dato delle citazioni, devo dire, culturali molto interessanti, ne faccio una in più, quelli che sono gli ebrei ashkenazi, che è una comunità ebrea rimasta per secoli isolata sia dal punto di vista geografico sia dal punto di vista proprio di scambi con altre comunità. Poi questa comunità si è diffusa nel mondo ma è alla caratteristica che i singoli componenti di questa comunità in realtà possono essere facilmente ricondotti a quelli che sono i fondatori della comunità. In questa comunità le donne hanno un rischio, i componenti hanno un rischio di avere delle mutazioni BRCA, uno ogni 40 elementi, che confrontata a 1,800 della popolazione generale fa capire come questa è una popolazione a rischio, una popolazione a rischio quindi anche per tumore ovarico, anche se i tumori ovarici in questo gruppo, in questa comunità, ha una prognosi migliore rispetto agli stessi membri della comunità che non hanno la mutazione BRCA. Cioè i tumori dell'ovaio che in questa comunità insorgono in presenza di mutazione BRCA vanno meglio rispetto alle altre. Sappiamo che cosa è il grosso modo, c'è stato detto oggi cos'è questa mutazione BRCA, è in pratica una mutazione che interessa delle parti precise del cromosoma 17 che comporta un malfunzionamento dei sistemi di riparazione del DNA stesso. Ci ha detto la Nicoletta e questa diapositiva lo riassume come, e facendo riferimento a quanto ha detto anche Marchini prima, che esistono delle mutazioni germinali, cioè che sono presenti nei cromosomi di tutte le cellule dalla nascita e ci sono delle mutazioni somatiche. Ma se complessivamente andiamo a considerare il numero di casi, la percentuale di casi di tumore ovarico in cui c'è in qualche modo un danno di questi sistemi di riparazione, più del 50% di questi pazienti hanno in realtà questa caratteristica. Sappiamo che il test genetico, ne abbiamo parlato prima in discussione, è oggi indicato in presenza di tutta una serie di condizioni permettenti, cioè sappiamo che il test genetico può essere in realtà è indicato in tutta una serie di condizioni, che sono quelle che ho elencato, ed esiste su internet, disponibile su questo braccalculator.com, un semplice programma computerizzato, inserisci dei dati e ti viene il rischio di mutazione somatica BRCA che esiste in quella particolare situazione. Ancora, detto questo, detto quindi dell'importanza della mutazione BRCA, detto delle correlazioni col tumore della mammella e il tumore dell'ovaio, detto tutto, in realtà bisogna affrontare, beh, allora io ho una mutazione, che cosa devo fare, quali sono le armi in mio possesso. In realtà questo è un argomento estremamente interessante perché in Istituto Nazionale dei Tumori, dove io lavoro ormai da 30 anni, a partire, se non mi ricordo male, dal 96-98 si è creato questo centro dei tumori eredo familiari. Vedevamo le pazienti, il genetista, oggi rappresentato da dottoressa Manuchian, valutava il rischio, si faceva il test, quando poi è stato disponibile, insomma abbiamo iniziato a lavorare su questo tema e così abbiamo iniziato a identificare pazienti che avevano la mutazione e quindi avevano un elevato rischio per il tumore della mammella e il tumore dell'ovaio. Abbiamo creato uno staff di chirurghi, uno staff di chirurghi senologi e ginecologi che in qualche modo davano una mano alla genetista a sciogliere i problemi, ma la realtà vera è che sino a qualche tempo fa, conosciuta la mutazione, poco sapevamo su che cosa era possibile fare. Per cui la paziente, io faccio riferimento a quella analisi che ha fatto Nicoletta Ceranna all'inizio, c'era il rifiuto di cui parlava anche Fedro, che molto spesso era giustificato dal fatto che io conoscevo di avere un rischio elevato di andare incontro a un tumore ovario con un tumore mammario e poi non avevo niente da fare, quindi mi rimaneva l'angoscia, vedevo bene la spada di Damocle sulla mia testa, ma in realtà le armi, il mio possesso per combattere questo problema erano poche. C'è cambiato qualcosa oggi? Beh sì, sicuramente è cambiato. Noi possiamo agire in tre direzioni, migliorare la sorveglianza, la chemioprevenzione e poi passare alla chirurgia. Per quanto riguarda la sorveglianza, ovvero nei tumori della mammella e nel tumore dell'ovaio, io sono in grado, sapendo che una paziente ha più alto rischio di effettuare dei controlli più efficienti, più accurati, più frequenti, ma che comunque ritengo sono in grado di, scusate, un'allergia ai pioppi, è una roba, questo periodo è micidiale. Ho la possibilità di arrivare a una diagnosi precoce? Beh, le cose qui non siamo messi benissimo, almeno per la mammella, se noi vogliamo dare una stima spannometrica, ho cercato una immagine animata, poi non sono riuscito a metterla e mi sono aiutato con le frecce, per valutare quella che è l'efficienza dei nostri controlli basati sull'esame clinico, la mammografia, l'ecografia, la risonanza, non siamo messi male. L'efficienza dei controlli senologici è in qualche modo adeguata, permette una diagnosi precoce. Per quanto riguarda l'ovaio siamo messi malissimo, nel senso che quello che noi possiamo mettere in campo è la valutazione clinica, la visita ginecologica ogni sei mesi, l'ecografia pelvica transvaginale ogni sei mesi, il dosaggio al CA 125 ogni sei mesi, che è quello che noi proponiamo ed effettuiamo a tutte le nostre pazienti che in istituto vengono identificate come a rischio o per mutazione o perché hanno una storia familiare a rischio. Continuiamo ad effettuarla, ma l'efficacia è molto bassa. Infatti se noi andiamo a vedere questo solo a carattere squisitamente descrittivo ed esplicativo senza dare molti dati, per quanto riguarda il tumore della mammella abbiamo in particolar modo, è chiaro che tutti gli esami radiologici nella maggior parte dei casi sono operatori dipendenti, è chiaro che l'accuratezza diagnostica e mammografia di un medico che fa solo mammografie diverse rispetto a uno che effettua diversi tipi radiologici, ma comunque abbiamo degli esami, in particolar modo la risonanza ultimamente che ci dà una sensibilità di diagnosi, un valore di sensibilità della metodica che è piuttosto alto. Per quanto riguarda invece i tumori dell'ovaio, lo diceva prima Nicoletta, lo ribadisco io, ho portato solo a scopo esemplificativo questo studio che è uno, l'ultimo degli studi di screening che ha riguardato varie patologie, incluso il tumore ovarico, l'ecografia pelvica come il CA 125 in realtà non comportano nessun miglioramento di quello nel programma di screening della diagnosi e quindi della sopravvivenza. Dovete tener conto che il tumore dell'ovaio, se identificato in una fase iniziale di malattia, è una malattia che ha delle percentuali di guarigione elevate, a secondo dei casi diciamo è superare al 75%, il problema è che identificare un tumore ovarico in fase iniziale è una botta di fortuna della paziente, un caso, un esame ben fatto o tutta una serie di eventi che concorrono a una diagnosi poi è chirurgica di tumore ovarico, ma nella stragrande maggioranza dei casi, l'80-85% dei casi il tumore, come diceva Nicoletta, è già metastatico al momento della diagnosi, soprattutto il seroso di alto grado. Dice, ma allora non dobbiamo fare più nelle ecografie? No, il CA 125, sì, lo facciamo, lo applichiamo, è quello che abbiamo a disposizione sino ad oggi, noi in istituto stiamo facendo due studi altamente sperimentali per cercare di trovare una diagnosi diversa, ma sino a questo momento non abbiamo risultati, ma sappiamo che quello non ci consente una diagnosi. Considerate che il CA 125, come gli altri marcatori, vengono oggi prescritti da molti medici, specialisti, medici di base, di routine, molto spesso la paziente, secondo me, come dire, si potrebbe risparmiare molto il sistema sanitario nazionale già solo con i marcatori, ha un effetto a volte negativo, perché la paziente vede che se non adeguatamente informata che i marcatori sono negativi, dice, i marcatori sono negativi e il tumore non ce ne ho, cosa che ovviamente non sta né in cielo né in terra, per cui quello che abbiamo a disposizione in realtà molto poco. La chemioprevenzione, solo due parole, perché non ci sono dati conclusivi, sia per la mammella che per l'ovaio, ci sono tutta una serie di studi e di dati preliminari, non possiamo però oggi considerare questa una realtà da applicare praticamente per tutte le donne, può essere invece un'opportunità di partecipare agli studi attivi nel caso in cui si dovesse rifiutare o non essere propensi a effettuare quella che è la misura profilattica per eccellenza oggi, che è la chirurgia. Ritorniamo all'immagine della bellissima e inquietante Angiolina Jolie e parliamo della chirurgia profilattica. La suddividiamo nella chirurgia profilattica per la mammella e per l'ovaio, non si può parlare solo dell'uno ignorando l'altro, iniziamo dalla mammella. Dalla mammella la chirurgia profilattica può essere rappresentata dalla mastectomia profilattica controlaterale nel momento in cui si è già avuto da una parte il tumore del mammello, della mastectomia profilattica bilaterale. Nel primo caso, ovvero la mastectomia profilattica controlaterale nella popolazione generale, cioè non nella popolazione con mutazione BRCA identificata, non sembra modificare sostanzialmente quello che è la sopravvivenza, un termine veramente spiacevole, ma che è quello che si usa in pratica in questo studio. Per quanto riguarda invece la stessa mastectomia controlaterale, ma nelle pazienti che avevano invece una mutazione BRCA1 o 2, si vede che si ha una riduzione dell'incidenza di tumore controlaterale che risulta statisticamente significativa, per cui su quello abbiamo un effetto di riconosciuta validità. C'è un trend che sembra indicare un miglioramento della sopravvivenza, ma non c'è la significatività statistica. ovvero qualcosa sicuramente aggiunge al trattamento, ma non siamo in grado oggi di dire se questo qualcosa in realtà vale da un supporto a questo intervento, che è un intervento ulteriormente demolitivo per la donna. La mastectomia profilattica, qui torniamo alla signora, ovvero in presenza di mutazione BRCA, è un altro discorso. Ho trovato questo lavoro di uno studio italiano che ha fatto una meta-analisi, cioè un'analisi globale di tutti i dati pubblicati sull'argomento, è appena stato pubblicato e si vede come per gli addetti ai lavori, questo è un grafico facilmente interpretabile, se voi vedete qui c'è a favore o sfavore, in realtà tutti gli studi sono a favore della mastectomia profilattica come riconoscendo la capacità di ridurre il rischio di andare in conto al tumore dell'ovaio con una percentuale che dai dati presentati in questo studio sono intorno al 90%, cioè la riduzione del rischio non è completa ma è del 90%. Qual è il contraltare della mastectomia profilattica? Beh, li vedete qui, è inutile che lo raccontano le signore presenti, sono il non azzeramento del rischio, gli aspetti chirurgici, sia la degenza, la complicanza, le cicatrici, il fatto che molto spesso la ricostruzione plastica non è quella che le donne hanno in mente quando si parla di chirurgo plastico, in realtà il risultato è sicuramente peggiore di quello che può dare una chirurgia estetica, l'impatto psicologico, quello che è l'immagine corporea di se stessi e altri problemi, quale l'allattamento. Su questo argomento ci si è letteralmente scontrati per anni e sino a quando, e questo all'angiolina ciò lì bisogna riconoscere nel merito, non c'è stata questa entrata in campo di un personaggio così in vista, in realtà molte scuole chirurgici che erano contrarie alla mastectomia profilattica per tutti i motivi che vi ho mostrato prima. Oggi la distanza in realtà fra gruppi a favore e contro si è sicuramente un po' livellata. Il problema è che in questo campo il medico, come la paziente, dovrebbe porsi su un piano leggermente differente rispetto a quello al quale siamo abituati, ovvero il medico dovrebbe dare alla paziente un'informazione quanto più possibile precisa e saustiva e asettica, ovvero non colorata dalle proprie passioni, dalle proprie convinzioni che in qualche modo possono, dato che il medico nella maggior parte dei casi non è BRCA positivo, possono in qualche modo cozzare con la sensibilità di una paziente che vive una situazione che noi non conosciamo. Per cui l'informazione è essenziale e dovrebbe essere mirata ad informare la paziente senza in qualche modo aggiungere dati colorati da quelle che sono le proprie convinzioni, o almeno questo è quello che penso io. Per quanto riguarda invece la chirurgia profilattica del tumore ovarico è l'anesectomia. Questo è l'utero, questi sono gli annessi che includono le ovaie e quelle che sono le tube. L'anesectomia è l'asportazione delle ovaie e di tutta la tuba. La tuba dovrebbe essere asportata completamente senza entrare nel dettaglio tecnico, ma questo è essenziale. Poi vedremo anche perché. Ci sono due tipi di profilassi, l'anesectomia e più recentemente l'aselpingectomia, ovvero l'asportazione solo della tuba, ma lo vedremo più avanti. Ci sono i dati a nostra disposizione e questo è ancora da valutare completamente. La differenza tra il tumore dell'ovaio e il tumore della mammella è in questa diapositiva. Il tumore dell'ovaio in una fase iniziale di malattia è per la maggior parte dei casi già diffusa a distanza. Il tumore della mammella ha invece rispetto all'ovaio un andamento in qualche modo opposto. La profilassi quindi nel tumore dell'ovaio ha ancora maggiore peso perché molto spesso noi sottoponiamo ovarietomie profilate nei pazienti con BRCA che è difficile convincere a fare la chirurgia profilattica. Credetemi, è una delle cose più complicate. Molto spesso arriviamo tardi e nonostante la diagnostica che noi facciamo è completamente negativa, molto spesso troviamo in questi pazienti un tumore già avanzato anche se sono stati sottoposti a dei controlli precisi. E ovviamente quindi la tempestività dell'intervento, non farlo dopo anni e anni, mi ricordo di una signora di discussione passata tre anni per convincerla, alla fine siamo riusciti ad avere il suo assenso a 50 anni, purtroppo non siamo arrivati perfettamente in tempo. Questi sono gli esiti chirurgici di un'annesectomia, praticamente nessuno perché queste cicatrici non si vedranno e questo è uno studio che dà un dato su che cosa è possibile fare con la chirurgia profilattica, non vi faccio leggere queste tabelle. La riduzione del rischio del tumore ginecologico è del 90% ma si ottiene pure con l'overectomia profilattica nelle pazienti con mutazione una riduzione del tumore mammario che è compresa a secondo delle casistiche fra il 40 e il 50%. Quando farla? Questo è il grafico che dice l'incidenza, cioè qual è la frequenza del tumore ovarico a secondo dell'età ed è chiaro che l'overectomia profilattica va programmata alla fine dell'attività procreativa e quindi diciamo in un tempo ragionevole dopo che si è adeguatamente programmate quelle che le proprie gravidanze si è concluso quello che è il proprio desiderio riproduttivo. Ci sono delle indicazioni riguardo al fatto che la chirurgia profilattica può determinare una comparsa precoce di osteoporosi come di disturbi cognitivi. In realtà tutto è dovuto al fatto che la carenza di estrogeni associate all'up o down regulation di alcuni germi come l'apoemotobina e quelli che sono alcuni tipi di recettore per gli estrogeni possono comportare questi disturbi. La terapia estrogenica elimina questo tipo di disturbi, è dato preliminare, ci sono degli studi in base al quale la terapia ormonale sostitutiva e la terapia estrogenica non sembra aumentare in questo gruppo di pazienti il rischio di tumore della mammella. Ve lo do come dato iniziale, come vedete sono stati pubblicati uno nel 2005-2011, i dati però a mio giudizio non sono ancora conclusivi per quanto riguarda questo argomento. L'ultimo argomento e poi concludo è un altro tipo di chirurgia profilattica che è l'asportazione solo della tuba, deriva dal fatto che le terapie patogenetiche più recenti sulla nascita del tumore ovarico descrivono un meccanismo diverso rispetto a prima, cioè che il tumore insorge nella tuba e poi delle cellule inoplastiche scolono sull'ovaio e lì danno il tumore dell'ovaio. Allora se la tuba è il primo step del tumore potrebbe essere una buona opportunità a togliere solo la tuba. In realtà questo è un argomento oggi particolarmente discorso. Esistono due studi in questo momento in corso che prevedono in una prima fase conclusa quella che è la vita procreativa l'asportazione delle tube e poi dopo 3-4 anni o 4-5 anni nell'altro studio si tolgono le ovaie. Questo non vuol dire, come spesso oggi succede, io vedo regolarmente delle donne a cui lo specialista dice togliamo le salpingi e lasciamo le ovaie tanto il tumore inizia da lì. Se non c'è una documentazione scientifica è importante effettuare questo tipo di intervento possibilmente all'interno di uno studio clinico controllato o almeno all'interno di un gruppo di riferimento per lo studio di quelle patologie. Conclusioni. Per quanto riguarda la mastectomia profilattica io ho messo come primo segno l'importanza della comunicazione. Sicuramente la mastectomia profilattica comporta una riduzione sostanziale del rischio. È molto pesante per la paziente. La ricostruzione plastica non sempre è bellissima ma la donna deve saperlo ed è importante che la donna come il medico valuti bene i costi, ovviamente non i costi economici ma i costi in termini di vita personale e la possibilità dei benefici che si possibili ottenere. Per quanto riguarda la mastectomia profilattica secondo me le conclusioni sono più semplici. La mastectomia profilattica in caso di mutazione oggi riduce del 90% i tumori diciamo genitali e del 40-50% il tumore della mammaria. Comporta degli effetti sicuramente la menopausa precoce ma anche se qui è importante l'informazione ritengo che l'ovarectomia profilattica sia una procedura ormai da ritenersi acquisite e che io francamente consiglio dei pazienti senza grossi pesi nel cuore. Vi ringrazio molto per l'attenzione.